La rinata squadra di Busto Arsizio non ha ceduto di fronte alla Fiorentina nella quale debuttano l'italo-cileno Montuori e il fuoriclasse Curigno. E' il giovane Virgili a fare l'uomo di punta nell'iniziale predominio viola e ad impegnare a fondo il portiere. In contropiede i tigrotti si rendono spesso pericolosi obbligando il bravo Sarti ad audaci parati. Poi la Fiorentina va in vantaggio, Virgili viene sgambettato ai bordi dell'area e Cervato batte la punizione. Il pallone però rimpalla sulla barriera difensiva e Virgili al volo di sinistro sorprende il portiere. Bernardini è sicuro dei suoi ragazzi e Curigno in apertura di ripresa da posizione impossibile segna la seconda rete per i violi in maniera spettacolosa. Ma i bustocchi reagiscono e impegnano Sarti, lo battono con un gol di Danova e riescono a pareggiare con azione lineare conclusa di testa da Orzan.